Allo stadio Druso di Bolzano la Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata affronta la Norvegia nella terza partita di qualificazione dell'Europeo 2025 per gli azzurrini e la prima gara del girone in casa. E la Norvegia rendersi subito pericolosa con Mughiscia che va alla conclusione da fuori, pallone che finisce a lato. Risposta azzurra al minuto 19. Prati recupera un pallone sulla tre quarti e va subito al tiro con il destro. Sjoning è bravo a distendersi e deviare. Al venticinquesimo Italia avanti. Fa tutto Baldanzi che riceve il pallone da Bove, si inserisce in aria, supera un difensore e poi con un bel sinistro in diagonale batte Sjoning per l'1-0. Primo gol in Under 21 per l'attaccante dell'Empoli. Italia insiste, trentacinquesimo, Ruggeri da sinistra, pallone che taglia tutta l'aria e Sposito in scivolata non ci arriva per un soffio. Un minuto dopo Endur ad avere la palla buona per il raddoppio. Il numero 17 azzurro entra in aria e prova a sorprendere Sjoning con l'esterno destro ma la mira è sbagliata. Passano altri 60 secondi e questa volta è Sposito ad approfittare di un errore norvegese ma il suo sinistro da ottima posizione è deviato in angolo. Ripresa che si apre con il 2-0 Italia. Dopo 20 secondi Baldanzi si fa largo sulla destra, pallone dentro per l'inserimento di Esposito che questa volta non sbaglia e di piatto sinistro in fila Sjoning. Primo centro in Under anche per l'attaccante dello Spezia. Nunziata toglie Baldanzi e inserisce Oristanio. L'attaccante del Cagliari si mette subito in evidenza al minuto 61 su calcio di punizione. Il sinistro del numero 10 impegna il portiere norvegese. Al 65esimo si rivede la Norvegia. Bella azione di Hansen Horen. Destro rasoterra su cui De Plansch è bravissimo a metterci la mano e deviare in corner. A Bolzano finisce 2-0 per l'Italia. Prossimo impegno il 16 novembre contro San Marino.